Ultime ore di calcio mercato, domani sera alle 20 stop alle trattative. È fatta per il ritorno di Lubomir Tupta, lo Slovan Liberec, club della massima serie slovacca. Conferme arrivano dall'agente del calciatore Martin Petras e dal DS del delfino Daniele Delicarri. Tupta aveva già militato nello Slovan Liberec lo scorso anno, 24 presenze e 4 gol. In Slovacchia, ricordiamo, il mercato chiuderà i battenti il prossimo 15 febbraio. La probabile formula, prestito con diritto di riscatto, deludente il contributo di Tupta con la maglia del Pescara. 15 presenze, 9 da titolare, 0 gol per un totale di 800 minuti. In Coppa Italia due gettoni e una rete contro la Vis Pesaro. Niente da fare per la mezzala della Vicenza, Fabio Scarsella, l'esperto centrocampista ai margini per circa 45 giorni. Causa infortunio muscolare al flessore della coscia. Intanto, squadra allo sbando, col Foggia, quinto KO interno stagionale. Biancazzurri senza equilibrio, gioco e carica agonistica, ovvero l'aspetto più preoccupante. Ai rossoneri di Fabio Gallo è bastato aspettare e ripartire, certo, con organizzazione e qualità. E poi il nulla sotto il profilo del gioco. Possesso sterile, perimetrale e quindi stucchevole. E' mancato il movimento senza palla. In realtà, più opportuno dire che è mancato tutto in fase di possesso e non. Numeri impietosi ma inconfutabili. Settima sconfitta nelle ultime dieci partite. In questo lasso di tempo appena sette punti conquistati. Media retrocessione. Nelle ultime sei gare, soltanto tre reti all'attivo, con un rigore regalato nella sfida col Latina. Altresì, significativo il dato relativo ai gol subiti. Solo otto nelle prime dodici gare, ben venti nelle successive dodici. La squadra ha perso tutte le certezze, faticosamente costruite, nella prima parte di stagione. La cruda realtà. Oggi i biancazzurri non sanno più stare in campo. Fragili, in fase di non possesso e inconsistenti in attacco. La pessima gestione del caso Lescano ha fatto il resto. Di questo passo, terzo posto obiettivamente a rischio. Mercoledì, turno infrasettimanale. Pescara impegnato a Biterbo con il Monterosi inizio ore 14.30. Laziali, quintultimi in classifica, reduci dalla netta sconfitta. 3-0, partita sul campo della Virtus Francavilla. Biancazzurri privi di mora, trauma cervicale dopo lo scontro di gioco accidentale ma molto duro con Milani. Oggi l'ex SPAL è stato dimesso dall'ospedale. Altresì assente craia per squalifica. Per lo stesso motivo padroni di casa senza il difensore Mbendè.